L'ultima settimana di Per il Cinema Italiano, la manifestazione in corso a Santa Croce in Gerusalemme, fino al 21 luglio, è tutta dedicata al cinema dei Fratelli Taviani e quindi è un grande onore avere con noi il volto dei Fratelli Taviani, uno dei primi film e tra i più belli dei Fratelli Taviani, San Michele Avevo un Gallo, il grande Giulio Broggi. Buonasera. Buonasera. Ci racconti qualcosa di quel film? Niente, allora cominciamo a dire che questo è il film che ho amato di più, anche se leggendo la sceneggiatura mi sono venuti i brividi, perché c'era una scena che durava 20-25 minuti che si svolgeva in carcere da solo, dove Giulio Ragneri, il personaggio che facevo, doveva reinventarsi la vita. E quindi se ne è inventato di parlare con i suoi compagni di partito e per farli presenti li interpreto sempre io. Quindi è una scena che mi aveva un po' preoccupato, ma la sapienza dei Taviani mi ha subito tranquillizzato e mi ha portato a fare una cosa che forse non è poi tanto disastrosa. direi proprio di no. Quanto era importante, Broggi, in quel film e in quegli anni il coinvolgimento anche, oltre che emotivo e personale, il coinvolgimento anche politico nel cinema dei Taviani? Erano gli anni 60, era un cinema militante. Sono sicuro che per lei era altrettanto importante quanto l'aspetto artistico, o meglio, era tutto insieme, credo. Questo è vero, tanto è vero che per me la vicinanza di Taviani è stata anche una lezione di vita. Naturalmente la pensavamo loro in modo migliore, in modo da autori, ma la pensavamo nello stesso modo e quindi la vicinanza di Taviani per me è stata molto prolifica. Grazie mille Giulio.